Mentre l'impennata dei contagi resta stabile e dunque non c'è un eccessivo aumento, infatti sono 177 i pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, dei quali 67 a Caltanissetta, 50 a Gela, 16 a Niscemi, 12 a Stancataddo e gli altri distribuiti in tutti i vari paesi della provincia, invece aumentano i ricoveri. Infatti rispetto ai giorni precedenti sono 42 i soggetti ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia per 580 pazienti positivi a Caltanissetta, 13 ricoverati e 592 positivi a Gela e 7 ricoverati. C'è un paese della provincia nissena che in questo momento è covid free ed è il paese di Villalba. Sono 2319 i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia, si nota anche un discreto numero di guariti.